Eccoci qui circondati da questo giallo Van Gogh per parlare come sempre ormai da due anni a questa parte di libri. Alza il volume ed ecco i volumi che alziamo quest'oggi. Sono due libri divertenti perché io ritengo che insomma i libri non debbano mai annoiare e se succede vuol dire che lo scrittore ha sbagliato qualcosa. Il primo è questo, Crimini sotto il sole, una raccolta di racconti che hanno come protagoniste delle detective donne e in più sono sempre in situazioni di vacanza. Tra l'altro mi onoro del fatto di essere anch'io tra i partecipanti con un mio racconto curioso, strano, particolare che evita in soliti luoghi comuni sui detective. E poi ovviamente, ed eccolo qui, Glenn Cooper, una firma ovviamente di tutto rispetto, famoso nel mondo e sui libri anche da noi per la edizione Nord in particolare vanno veramente a ruba. Questo è La Porta delle Tenebre e in pratica il seguito di un altro fortunatissimo libro sempre di Glenn Cooper che si chiama Dannati. In pratica con questo libro andremo, pensate, all'inferno e chissà se il lettore ci tornerà da quel luogo. Eccoli qui, ve li consiglio, divertitevi, alza il volume.